Allora, per fare questa magia, che è una magia che lascia a bocca aperta, basta che la fate bene, per fare questa magia ci vuole niente, ci vuole una cannuccia di plastica e un panno per far diventare la cannuccia magica. È una magia elettrica questa, quindi magica vuol dire elettricamente un pochino più carica, con le cariche che vanno un po' di qua, un po' di qua, soprattutto. Allora, facciamo così, per fare questa magia dobbiamo prendere la cannuccia e farla diventare magica strofinandola bene sul panno di lana o di pile, ok? Appoggiamo la cannuccia sul tappo di plastica, adesso facciamo finta di fare i maghi, guardate bene con la mia mano, guardate cosa faccio. A questo punto siamo riusciti a spostare con una sola mano, senza nemmeno toccarla, la cannuccia, guardate. Chi fa più giri? Vediamo chi riesce a fare più giri senza far cadere la cannuccia e vediamo chi mi sa spiegare il motivo di questa magia. Chi fa più giri?